ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale e io provo nuovamente ad accendere questa luce che non funziona ma la batteria va bene benvenuti sul mio canale io sono Francesco Luce sono un giovane professionista di tennis sul mio canale potrai scoprire la mia attività dentro e fuori dal campo nel video di oggi voglio un po' andare un po' concludere l'ultimo video che vi lascio qui sopra anche in descrizione per quanto riguarda il torneo a Salerno sul cemento abbiamo preso anche il nostro primo punto ATP in doppio forse due però purtroppo non avevo dove posizionare la GoPro volevo ringraziare il mio compagno francese Pierre davvero una persona fantastica ci siamo divertiti veramente tanto peccato per l'ultimo doppio che abbiamo perso 11-9 al super tiebreak del terzo personalmente non amo la superficie sul cemento ma per una serie di problemi è stato comunque un buon torneo anche di doppio non giocavamo un doppio da un po' quindi davvero niente male gioca abbastanza bene comunque è 800 sia in singolo che in doppio quindi un gran bel giocatore e nulla in questo video invece cercheremo di preparare il prossimo torneo ovvero quello su terra a Santa Margherita il nostro primo 25.000 che sicuramente è un livello successivo giocheremo le quali però già da oggi andremo ad organizzare un po' questa piccola parte su terra questo perché perché finito questo torneo dovremo rientrare per concludere il corso di istruttore di secondo grado però questo poi verrà successivamente per quanto riguarda invece il torneo adesso cerchiamo di organizzarci durante questi questi pochi giorni e andiamo a vedere un attimo un po' come me è oggi andiamo a vedere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti